Primo episodio di 1939-1945, la seconda guerra mondiale. Racconteremo in 20 puntate l'evento che ha travolto la storia del mondo nel 900. E lo faremo partendo oggi dagli anni 30, gli anni dell'affermazione del nazismo, 1933, e poi gli anni successivi, quelle in cui Hitler a poco a poco farà vedere che quello che aveva scritto in Mein Kampf davvero lo voleva realizzare. La militarizzazione della Renania, la partecipazione alla guerra civile spagnola, 1936-1939, una vera e propria anticipazione della seconda guerra mondiale, la questione dei sudeti, in mezzo all'annessione dell'Austria e poi conferenza di Monaco. I grandi leader europei pensano che accontentando Hitler lo placheranno. Sbagliano e la storia sarà molto dura nel rimproverare loro questo errore. Sbagliano perché Hitler, il primo settembre del 1939, dopo aver stipulato un patto con i comunisti sovietici, il patto Molotov-Ribbentrop, dai nomi dei ministri degli esteri che lo firmarono, invade la Polonia. La prima partecipazione alla guerra mondiale è stata consenata da i comunisti di Bretagna e Francia. 1 agosto 1934 Nella sua tenuta di Noide, nella Prussia orientale il presidente tedesco Paul von Hindenburg sta per morire Hitler accorre al suo capezzale ma l'anziano Feldmaresciallo, simbolo della vecchia Germania imperiale non lo riconosce malato e confuso, pensa di essere di fronte al Kaiser Guglielmo II e lo chiama Sua Maestà Il giorno successivo, soltanto un'ora dopo la morte di Hindenburg Hitler riunisce nella sua persona le cariche di cancelliere e presidente Da questo momento, ufficiali e gregari dell'esercito tedesco devono prestare giuramento di fedeltà, in nome di Dio al loro nuovo comandante supremo Obedirò incondizionatamente al Führer del Reich e del popolo tedesco Adolf Hitler e sarò sempre pronto a dare la vita per non mancare al giuramento prestato Il processo di accentramento del potere nelle sue mani è compiuto La Germania deve tornare ad essere grande e potente superare l'umiliazione della prima guerra mondiale Dopo aver abbandonato la società delle nazioni il Führer può ora mantenere la promessa che ha fatto i tedeschi liquidare il trattato di Versailles Da così il via ad un imponente piano di riarmo Ricostituisce l'esercito, allestisce la flotta da guerra e prepara un'aviazione, la Luftwaffe che sogna destinata ad essere la più micidiale del mondo Hermann Goering, proprio il più corpulento dei gerarchi nazisti cogna lo slogan I cannoni ci renderanno potenti Il burro ci farà soltanto diventare grassi Le acciaierie in quel periodo cominciano a lavorare febbrilmente La politica estera di Hitler ha ormai delineato con chiarezza i propri obiettivi Il riarmo assume proporzioni grandiose eludendo gli obblighi del trattato di Versailles Si fabbricano navi da guerra, aerei, cannoni Si accumulano riserve di ferro e di carbone destinate all'industria bellica Ormai mi rendo conto che i territori da noi perduti non si riacquistano con abili chiacchiere parlamentari Ma solo con una spada sanguinosa Forgiare questa spada è compito della nostra politica interna Cercare alleati e usarla è compito della nostra politica estera Genti dello stesso sangue devono essere unite nello stesso Reich Noi non rinunciamo a nessun tedesco Lotta senza quartiere contro il trattato di Versailles Due gradi di cittadinanza In Germania ormai esistono i cittadini del Reich soli a godere di tutti i diritti civili e politici e quelli dello Stato, cittadini di rango inferiore Il discrimine? La purezza del sangue Il 15 settembre del 1935, infatti, Hitler ha fatto approvare per acclamazione le cosiddette leggi di Nuremberg Cittadino del Reich può essere solo colui che abbia sangue tedesco o affine Stabilisce la legge per la cittadinanza del Reich E quella per la protezione del sangue e dell'onore tedesco vieta i matrimoni misti e perfino le relazioni extraconeugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco Per i trasgressori le pene sono severissime Un anno dopo, il primo dicembre 1936 viene fondata la Hitlerjugend, la gioventù hitleriana E' un altro momento chiave Nasce l'ultima, la più importante di una lunga catena di associazioni giovanili scolastiche, del lavoro, paramilitari che inquadrano il giovane tedesco fino dalla fanciullezza in maniera totale in ogni età e aspetto della vita Ma già prima, dalle scuole elementari, a sette anni ogni bambino deve ricevere l'impronta educativa per crescere davvero nazista Nasce una nuova materia di studio Ecco, o piccoli tedeschi, il padre di tutti gli ebrei Il diavolo E' il diavolo che se li ha messi sulle spalle e li ha disseminati nel mondo Guardateli come sono diversi L'ariano e l'ebreo L'ariano alto, nobile, biondo L'ebreo curvo, nero, meschino E' lui, l'ebreo, la causa di tutte le nostre disgrazie Non vi fidate di loro Fingono di convertirsi, ma poi mangiano carne il venerdì Attenti, bambini, a certi nomi Chi li porta è un ebreo Hirsch, per esempio O Fajkenblau Il mondo è solo dei tedeschi Via gli ebrei dai nostri locali pubblici Dalle nostre piscine, dalle nostre spiagge E soprattutto via gli ebrei, insegnanti e alunni Dalle nostre scuole Ed ora leggete Der Stürmer Come centinaia di migliaia di bambini tedeschi In quegli anni Il settimanale Der Stürmer Vende centinaia di migliaia di copie E citando anche in modo sceno La fantasia dei fanciulli contro gli ebrei Il suo direttore è Julius Streicher Un acceso antisemita che Hitler definisce Un dono di Dio Nel 1936-37 La persecuzione antisemita è già ad un punto avanzato In tutta la Germania non c'è più un impiegato ebreo al lavoro E gli ebrei sono allontanati dalle scuole Dall'esercito Dalle libere professioni Pedagogia, letteratura, arte, filosofia Tutto concorre ad accendere gli spiriti antisemiti e guerreschi L'Europa intera va ripulita dagli ebrei E tutto si trasforma in una preparazione alla guerra E' il 7 marzo del 1936 Quando l'esercito nazista entra in Renania La Renania, una regione all'estremo ovest della Germania Secondo i trattati di Versaglia Doveva restare demilitarizzata Era una garanzia per la Francia da possibili attacchi Ma i trattati per Hitler non contano più Nonostante le esitazioni dello Stato Maggiore Timoroso di più gravi conseguenze Hitler ordinò l'occupazione militare L'esercito nazista giunse così ai confini della Francia Per qualche giorno si ha l'impressione Che la Francia non accetti il fatto compiuto E respinga l'invasione tedesca con le armi Poi prevarrà il desiderio della pace a ogni costo Quel desiderio cui Hitler dovrà nei prossimi anni Tanti successi diplomatici Da un plebiscito interno Risultò ufficialmente che il 99% dei tedeschi Approvava la mossa di Hitler Il Führer ne prende atto in Parlamento E ribadisce le sue intenzioni pacifiche La Renania è stata occupata Per togliere ogni motivo d'attrito con la Francia Ora finalmente, egli assicura Comincerà un nuovo capitolo di pace tra i due paesi Caro Führer, dice il ritornello Sii così gentile Affacciati una volta al davanzale Il Führer ha ottenuto ciò che voleva E per di più è considerato il fautore della pace europea Un inizio incoraggiante per chi si è proposto come scopo Di riunire tutte le genti di lingua germanica In un unico Reich L'occupazione militare della Renania Aveva rappresentato il primo incontro Tra la politica di Hitler E la potenza dell'esercito Il buon esito dell'impresa Rafforzò il prestigio del dittatore Nelle alte sfere militari Non retrocedere di fronte a nessuna potenza Aveva dichiarato Hitler ai militari Non retrocedere di fronte ad alcuna forza Nella reintegrazione dell'onore del nostro popolo Ma i capi dell'esercito Seppure ormai dominati da Hitler Non si sopravvalutano Da solo l'esercito nazista Non è ancora in grado di sostenere una guerra europea Ci vogliono alleati E l'affinità di regime Suggerisce subito Benito Mussolini Il dittatore dell'Italia fascista Nel 1936 si fonda l'asse Roma-Berlino E nel settembre del 1937 Mussolini lo suggella Con un trionfale viaggio in Germania Nel 1934 A causa dell'assassinio del capo del governo austriaco Dolfus Era quasi scoppiata una guerra tra Italia e Germania Hitler in quella occasione aveva dovuto cedere Ma ormai è tornata la buona intesa Tra le due dittature L'alleanza si va cementando in quegli anni In una comune impresa di guerra La guerra di Spagna Teatro di una rivoluzione sanguinosa Il 16 luglio 1936 Un gruppo di militari con a capo il generale Franco Si solleva contro il governo democratico di Madrid L'Italia e poco dopo la Germania Appoggiano apertamente con uomini e mezzi Il colpo di Stato L'Unione Sovietica invia ingenti aiuti a Madrid E contemporaneamente cerca di favorire all'interno del governo L'azione dei comunisti Mentre l'Inghilterra e la Francia proclamano il non intervento Evitando un atteggiamento chiaro e senza equivoci In Spagna giungono per combattere accanto alle truppe governative Antifascisti di ogni paese d'Europa ed America Il bombardamento di Guernica è la prova generale dell'aviazione nazifascista Quel giorno a Guernica e subito dopo a Madrid E' stato sperimentato un nuovo tipo di guerra Presto centinaia di città, grandi e piccole Subiranno la medesima sorte in tutta Europa Rafforzato saldamente il potere all'interno della Germania Il nazismo dà l'avvio ad una politica di espansione e di conquista Che lo porterà nel giro di pochi anni a dominare l'Europa E quindi al crono totale Denunciato ufficialmente il trattato di Versailles La preparazione bellica della Germania non conosce più ostacolo Hitler è deciso a conquistare al Reich tedesco nuove terre 5 novembre 1937 Palazzo della Cancelleria I comandanti in capo delle tre armi ascoltano i piani del Führer La razza tedesca ha assoluto bisogno per sopravvivere di spazio vitale Di terre fertili, di materie prime Non oltre i mari ma nel cuore stesso dell'Europa Nelle immediate vicinanze del Reich Per una simile impresa non c'è che un mezzo L'uso della forza Austria e Cecoslovacchia saranno i primi due obiettivi da raggiungere Il discorso di Hitler è documentato in un rapporto passato alla storia con il nome dell'estensore Osbach Il comandante in capo dell'esercito von Fritsch e il ministro della guerra von Blomberg Che avevano sollevato obiezioni vengono presto esonerati dalle loro cariche Si arriva all'inizio del 38 alla resa dei conti fra Hitler e i vertici militari Nel 34 era stato stipulato una sorta di patto Ecco, nel momento in cui decide di partire alla conquista dell'Europa E forse non solo Hitler vuole avere dei vertici militari che siano in qualche modo sottoposti al suo volere Che li siano legati Come fare per liberarsene? Montando uno scandalo Questo scandalo Blomberg-Fritz fu una montatura Fu un'evidente montatura Si basava su dossier costruiti dalle SS o dai servizi segreti di Hitler Che accusavano Fritsch di essere omosessuale Cosa che allora era reato Per Blomberg l'accusa era quella di avere sposato la sua segretaria molto più giovane di lui Che avrebbe avuto un passato di prostituta Cosa non vera, come non era vera l'omosessualità di Fritsch Il 4 febbraio Hitler assume personalmente il comando supremo delle forze armate Schuschnick, cancelliere austriaco e lo statista che primo in Europa sopporterà gli effetti della politica nazista. Tre anni prima il cancelliere Dolfius era stato assassinato da elementi filonazisti. Allora il tentativo di Hitler di annettersi l'Austria era stato stroncato dall'atteggiamento ostile dell'Italia. Ma adesso Schuschnig è solo. Già un anno prima, a Venezia, durante l'incontro con Ciano e Mussolini, il cancelliere aveva capito che l'Austria non avrebbe più potuto contare sull'appoggio dell'Italia. Mussolini sembra ora meno preoccupato di eventuali pretese tedesche sull'Alto Adige. E proprio adesso Hitler prepara artificiosamente, attraverso la quinta colonna nazista, i presupposti per un intervento in Austria. L'ambasciatore tedesco a Vienna, von Papen, consiglia a Schuschnig un incontro con il Führer. Il 12 febbraio del 1938, nel rifugio alpino di Hitler a Berchtesgaden, l'incontro dei due statisti è drammatico. Schuschnig, nella misura del possibile noi faremo del tutto e io dico che in un modo o nell'altro risolverò questa cosiddetta questione austriaca, lo interrompe Hitler. Schuschnig, cercheremo di eliminare gli ostacoli che si frappongono ad una migliore comprensione fra noi, Hitler. Basterebbe un ordine e in una sola notte tutto il ridicolo sistema della vostra difesa crollerebbe. Hitler chiede la revoca del decreto che pone il partito nazista austriaco fuori legge e la nomina del filo nazista viennese Seiss Inquart al ministro dell'interno entro il 18 febbraio. Il 16 febbraio Seiss Inquart assume il ministero degli interni e il giorno dopo è dal Führer. Improvvisamente Schuschnig invita il popolo austriaco ad un referendum. Dovrà decidere esso stesso se vuole o no un'Austria libera e indipendente. Hitler impone di revocare il plebiscito. Goering telefona da Berlino. Schuschnig deve cedere il cancellierato a Seiss Inquart. Abbiamo ceduto alla forza, dirà un'ora dopo Schuschnig alla radio, perché non vogliamo versare del sangue. Dio protegga l'Austria. La sera dell'11 marzo, Seiss Inquart diventa cancelliere. D'accordo con lui, la notte dello stesso giorno, le truppe naziste varcano il confine austriaco. La bandiera con il simbolo della svastica viene issata sulla guglia più alta del Duomo di Santo Stefano. L'Anschluss fu il vero shock. Anzitutto perché non bisogna dimenticare che una delle clausole fondamentali del trattato di Versailles era che non può e non deve esserci l'unione fra l'Austria e la Germania. Germania e Austria hanno sempre fatto parte dello stesso mondo, il mondo germanico, il sacro romano impero. Negare l'Anschluss era negare il principio di nazionalità. Ma naturalmente non si voleva che la Germania fosse troppo forte e il trattato di Versailles e fece di quel punto una delle sue colonne, delle sue pilastri. Il 14 marzo Hitler entra trionfalmente a Vienna. Io credo, dirà pochi giorni dopo, che Dio ha voluto inviare un giovane di questa terra nel Reich perché vi divenisse grande. Ha voluto elevarlo alla dignità di capo della nazione per permettergli di riportare un giorno la sua terra natale nel seno del Reich. 79.000 persone appartenenti ai partiti democratici vengono arrestate nella sola capitale dalla Gestapo. Iniziano subito da parte delle SS le violenze contro gli ebrei. Il popolo austriaco viene chiamato alle urne per votare l'annessione alla Germania. Il 10 aprile 1938, con il 99,75% di voti favorevoli all'annessione, l'Austria cessa di essere una nazione indipendente e diventa una provincia del Reich. Il primo obiettivo è raggiunto. Ormai quella della Germania nazista è una scesa totale, militare e economica, ma anche sportiva. A tre settimane dal Anschluss, l'annessione dell'Austria al Reich, la Federazione Calcistica Tedesca organizza al Prater di Vienna la partita della riunificazione tra Germania e Austria. Un incontro che deve sancire l'unione dei due paesi anche in ambito calcistico. Capitano e punta di diamante del Wunder Team, la squadra delle meraviglie, come veniva chiamata la nazionale austriaca degli anni 30, è Matthias Zindelar. Per l'esile corporatura e la classe cristallina è soprannominato cartavelina. Quel giorno Zindelar fa ammattiri tedeschi in campo e poi li sfida fuori. Al diciassettesimo del secondo tempo segna il gol dell'1-0 e va ad esultare sotto la tribuna occupata da gerarchi nazisti. L'Austria vince 2-0, nonostante le autorità tedesche avessero stabilito che la partita dovesse terminare con un pareggio celebrativo. Il rigido protocollo finale impone il saluto ai gerarchi presenti in tribuna. Tutti i giocatori alzano il braccio teso davanti agli occhi, tutti tranne Zindelar e Karl Zesta, suo compagno di squadra. Quel plateale atto di sfida non passa inosservato. Joseph Goebbels, il ministro della propaganda nazista, pronuncia una velata intimidazione. Zindelar è l'idolo di Vienna e vogliamo credere che meriterà questo affetto anche in futuro. Il Reich pretende che Matthias giochi con la maglia della nazionale tedesca agli imminenti mondiali di Francia. Ma lui rifiuta, aducendo come scuse un ginocchio malandato e l'età ormai avanzata. Il 23 gennaio 1939, Zindelar viene trovato morto nel suo appartamento. La versione ufficiale parla di avvelenamento da monossido di carbonio, una stufa difettosa insomma. Ma alcuni pensano al suicidio e in tanti parlano di assassino. Con Zindelar muore anche la moglie, Camilla Castagnola, un'insegnante ebrea italiana. La Gestapo li sorvegliava da tempo. Lei sarebbe stata ben presto sollevata dal suo incarico. La stessa sorte che le sarebbe capitata in Italia. Nel 1938 anche il fascismo ha approvato infatti provvedimenti contro gli ebrei. A luglio è stato pubblicato il Manifesto della razza e al punto 9 c'è scritto Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Mussolini accetta senza alcuna protesta l'annessione dell'Austria alla Germania. E' la premessa di un progressivo allineamento dell'Italia con la politica del Führer. Un mese dopo Mussolini e Vittorio Emanuele III si apprestano a ricevere Hitler e Ribbentrop in visita ufficiale a Roma. Gli ebrei non appartengono alla Germania. Gli ebrei non appartengono alla Germania. La cornice fastosa in cui si svolgono parate, discorsi e ricevimenti indica chiaramente la scelta che Mussolini ha in animo di compiere anche se per il momento vuole evitare passi troppo clamorosi. I tentativi compiuti da Ribbentrop per la conclusione di un patto di alleanza tra Germania e Italia non raggiungono in questa occasione l'esito positivo. Il viaggio di Hitler in Italia non significa necessariamente un patto. Il patto verrà concluso più tardi e forse in quel momento il patto non era nemmeno già definitivamente deciso. Però la scelta era stata fatta. L'idea che Italia e Germania avessero interessi comuni e obiettivi comuni era in qualche modo già entrata nella linea politica di Mussolini. Il fascismo assimila progressivamente idee e atteggiamenti tipicamente nazisti. In un paese come l'Italia, che non aveva mai conosciuto persecuzioni razziali, si crea artificiosamente una questione ebraica. Ben presto saranno promulgate le prime leggi razziali e cominceranno le persecuzioni agli ebrei. Con il nome di Passo Romano viene introdotto in Italia il passo dei soldati nazisti. Annessa l'Austria è la volta della Ciecoslovacchia. È il secondo obiettivo della politica di Hitler. I tedeschi della regione dei Sudeti, che costituiscono un terzo dell'intera popolazione ciecoslovacca, passano a ritmo serrato nelle file del partito nazista. Essi agitano la bandiera dell'autonomia, mentre Berlino li prepara politicamente e psicologicamente all'attuazione dei suoi piani. Il partito nazista dei Sudeti, sussidiato sin dal 1935 dalla Germania, è pronto nel 1938 ad eseguire ciecamente gli ordini di Berlino. Il suo capo è Konrad Henlein, un professore di ginnastica. Sono trascorsi appena 15 giorni dall'occupazione dell'Austria. Henlein si reca a Berlino a conferire con il Führer. Come primo obiettivo, ordina Hitler, dovete formulare richieste inaccettabili per il governo di Praga. La consegna di Hitler svela in modo inequivocabile come la questione dei Sudeti fosse soltanto un pretesto per l'eliminazione dell'intera Cecoslovacchia. Con questa direttiva Henlein torna in patria. I nazisti sudeti si organizzano informazioni paramilitari. Ad essi spetterà il compito di provocare incidenti che Berlino attribuirà poi al governo cecoslovacco. Il 12 settembre 1938, al congresso del partito nazista a Nuremberg, Hitler minaccia apertamente un intervento armato in Cecoslovacchia. Sette giorni più tardi, il Führer ordina ad Henlein di interrompere con speciosi pretesti le trattative in corso a Praga per l'autonomia dei Sudeti. La Wehrmacht ha già ricevuto l'ordine di elaborare i piani per l'attacco alla Cecoslovacchia. Il primo ottobre tutti i preparativi militari dovranno essere conclusi. Sull'Europa appaiono le prime minacciose ombre della guerra. Inghilterra e Francia, legate da vincoli di amicizia e di alleanza alla Cecoslovacchia, tentano un compromesso. Tre giorni dopo il discorso di Hitler, il primo ministro inglese Chamberlain giunge a Berchtesgaden nel rifugio alpino del vittatore. L'Inghilterra, domanda Hitler, consente la cessione dei Sudeti al Reich? Non posso rispondere subito, replica Chamberlain. Devo prima consultare il mio governo e quello francese. Raggiungerò in ogni modo il mio scopo, lo interrompe Hitler. Anche con la guerra, magari una guerra mondiale. Il resto del mondo può comportarsi come vuole. Se il Führer è deciso a regolare questa questione con la forza, senza neanche attendere di discutere con me, perché ha accettato che venissi? Ho perduto il mio tempo. Quando parliamo di Chamberlain, naturalmente parliamo di una persona a cui si è, per così dire, appiccicata addosso l'etichetta dell'uomo di Stato troppo pacifista, remissivo, conciliante, imbelle. In realtà il povero Chamberlain nel 1938, quando cercò più volte di negoziare con Hitler, di trovare un contatto con Hitler, anche con dei viaggi in Germania che furono molto disgusti, beh, rappresentava il suo paese, rappresentava veramente la società britannica come era in quel periodo. L'Inghilterra non voleva la guerra. Passano otto giorni, Chamberlain è nuovamente da Hitler. La Cecoslovacchia, sebbene a malincuore, accetta, sollecitata dalla Francia, il principio dell'autodeterminazione per la zona dei Sudeti. Hitler, la sua venuta qui significa che i governi di Inghilterra, Francia e Cecoslovacchia consentono che la regione dei Sudeti sia ceduta alla Germania? Chamberlain, sì. Hitler, sono spiacente ma il vostro progetto è superato, ogni trattativa è ormai inutile, entro il primo ottobre i cecoslovacchi dovranno abbandonare alla Germania il territorio dei Sudeti. La Cecoslovacchia respinge l'ultimatum, Hitler insiste, è deciso ad agire ad ogni costo. Mancano poche ore allo scadere dell'ultimatum, Mussolini telefona all'ambasciatore attolico a Berlino. Chiedete immediatamente udienza al cancelliere, ditegli che il governo britannico mi chiede di intervenire come mediatore nella questione dei Sudeti. Dite al cancelliere che noi, io e l'Italia fascista siamo con lui, è lui che deve prendere una decisione, ma ditegli che a mio avviso occorre accettare la proposta. Hitler accetta ed invita a Monaco il giorno dopo Chamberlain, Dalladier e Mussolini. Chamberlain, prima della partenza per Monaco, dichiara Quando ero bambino e non riuscivo in qualche cosa, ripetevo continuamente a me stesso Prova, prova e riprova ancora. Ecco quel che mi propongo di fare. Quando tornerò, spero di potervi dire con Hotspur dell'Enrico IV, tra le ortiche ho raccolto un fiore, la sicurezza. Tra i partecipanti alla conferenza non figurano il governo di Praga né quello di Mosca. L'Unione Sovietica aveva offerto alla Ciecoslovacchia appoggio militare, ma la Polonia aveva rifiutato alle truppe sovietiche il passaggio attraverso i suoi territori. Per poter difendere la Ciecoslovacchia era ovviamente utile, se non indispensabile, una collaborazione dell'Unione Sovietica. Se si fosse unita alle potenze occidentali nella difesa dell'indipendenza della Ciecoslovacchia, la Germania avrebbe dovuto affrontare una guerra su due fronti, che è ciò che dai tempi di Bismarck la Germania paventava. L'Unione Sovietica viene ovviamente coinvolta nelle trattative per un possibile intervento a favore della Ciecoslovacchia, ma pone una condizione irrinunciabile di poter passare con le sue truppe in Polonia, perché ovviamente per combattere su un fronte lontano dai suoi confini è più vantaggioso. Perché la Polonia rifiuta? La Polonia rifiuta perché temeva l'ingerenza, la possibile egemonia dell'Unione Sovietica, non meno di quanto temesse invece la Germania nazista. Il compromesso presentato da Mussolini, ma elaborato direttamente dal Ministero degli Esteri di Berlino, viene approvato da Chamberlain e da Ladiè. L'occupazione dei territori con popolazione in prevalenza tedesca sarà effettuata fra il 1 e il 7 ottobre. Il resto dei territori dei sudeti, delimitato da una commissione internazionale, passerà al Reich entro il 10 ottobre. Oggi noi riteniamo che la crisi di Ciecoslovacca, vale a dire la scomparsa della Ciecoslovacchia dalla Carta d'Europa, fosse per così dire il grande errore delle democrazie e certamente a posteriori non si può non sostenere questa tesi. Ma alla fine di gente che piangesse molto per la Ciecoslovacchia, non ce n'era molta in quel particolare momento in Europa. Bisognerà pur rendersi conto che la Ciecoslovacchia era uno stato artificiale e che fu disegnato a Versailles in modo abbastanza, come dire, irrazionale e irresponsabile. Unire due province dell'impero asburgico, la Bohemia e la Slovacchia. Mettere insieme a queste due province, molto diverse l'una dall'altra, un'altra provincia, la terra dei sudeti, dove c'erano 3 milioni di tedeschi. E fare questo dopo un trattato di pace che, quantomeno in linea di principio, era fondato sul principio di nazionalità. Hitler ha ormai via libera per l'attuazione dei suoi piani. Chamberlain e Daladier hanno evitato la guerra a caro prezzo. Il ministro cieco Jean Masaryk, poco prima della firma del patto di Monaco, aveva dichiarato «Se voi sacrificate il mio paese per salvare la pace del mondo, sarò il primo ad approvarvi. Altrimenti, signori, Dio abbia pietà di voi». La politica degli accordi, dei compromessi, quelli che gli inglesi chiamano «appeasement», sembra aver raggiunto il suo obiettivo. «La guerra è per ora scongiurata. Hitler ha assicurato solennemente di non avere altre aspirazioni territoriali». Mussolini rientra a Roma in trionfo. Viene considerato il salvatore della pace. Tanti italiani accorrono a ogni stazione ferroviaria per manifestare il proprio entusiasmo e la propria fede nei confronti del Duce. Anche se non sfugge a nessuno che egli, ancora impreparato per affrontare una guerra, non ha semplicemente fatto il gioco di Hitler. Grandi folle festanti anche a Londra e a Parigi. Qui il primo ministro d'Aladie è pronto ad affrontare la rabbiosa protesta dei suoi connazionali. Quando, con sua sorpresa, si vede accolto come un eroe, scuote la testa, guarda la folla e bisbiglia ad uno dei suoi collaboratori. Imbecilli. Non sanno che cosa applaudono. Chamberlain, invece, non considera gli accordi di Monaco una sconfitta. Appena sceso dall'aereo, sventola, tra l'entusiasmo generale, la carta del suo accordo con il dittatore tedesco. Questa mattina ho avuto un altro colloquio con il cancelliere tedesco Herr Hitler. Ecco il documento che porta la sua e la mia firma. Consideriamo l'accordo firmato ieri sera come simbolico del desiderio dei nostri due popoli di non scenderne mai più in guerra gli uni contro gli altri. Qualche giorno dopo, alla Camera dei Comuni, parla di pace con onore. Ma Churchill, in quel momento all'opposizione, commenta amaramente Gran Bretagna e Francia potevano scegliere fra il disonore e la guerra. Hanno scelto il disonore e avranno la guerra. Il primo ottobre, secondo l'accordo firmato a Monaco, inizia l'occupazione dei territori ciecoslovacchi con popolazione prevalentemente tedesca. Il giorno prima, il governo di Praga aveva capitolato denunciando in faccia al mondo l'isolamento in cui era stato lasciato dalle potenze occidentali. Per Hitler, che si reca a visitare la regione dei Sudeti, è un vero trionfo. I suoi piani si attuano con il ritmo voluto, senza incontrare alcun serio ostacolo. I nostri avversari, l'Ira, hanno perso ogni volontà di resistenza. Da ogni parola che si sente nel loro campo, trapela il desiderio di trattare con noi. Non chiedono che di coltivare i loro fiori, di pescare con la lenza e di passare le loro serate accanto al fuoco con la Bibbia in mano. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Passano quattro giorni. Benesch, il presidente della Cecoslovacchia, è costretto a dimettersi e parte in esilio. Nuovo presidente è eletto Acia. Monsignor Tiso, esponente politico slovacco, è lo strumento con il quale Hitler distrugge dall'interno lo Stato cecoslovacco. Il 14 marzo 1939 Tiso proclama l'indipendenza della Slovacchia. Lo stesso giorno giunge a Berlino il presidente Acia. È costretto a firmare durante la notte un testo in cui si legge. Il presidente dello Stato cecoslovacco dichiara di rimettere fiduciosamente il destino del suo paese e del suo popolo nelle mani del Führer e del Reich tedesco. Il Führer ha preso atto di questa dichiarazione ed ha espresso la sua intenzione di prendere il popolo cecoslovacco sotto la protezione del Reich. Due ore dopo, all'alba del 15 marzo, le truppe naziste entrano in Bohemia e in Moravia e occupano Praga. La popolazione assiste con dolore e indignazione al passaggio dei tedeschi. Nessuna giustificazione di carattere storico o geografico può essere invocata in favore di una così flagrante violazione di accordi liberamente sottoscritti. Soltanto la violenza e il desiderio di conquista. La stessa sera Hitler giunge a Praga e dall'antico castello reale proclama il protettorato della Germania sulla Bohemia e sulla Moravia. Questi territori vengono consegnati a due nazisti sudeti, Enlein e Frank. Diventeranno tristamente famosi. La cecoslovacchia non esiste più. Una settimana dopo, i tedeschi si impadronescono addirittura di Memel, una cittadina che appartiene alla Lituania. Il mondo assiste inquieto a questi colpi di mano. La Germania non si limita più ad assorbire, sotto la propria sovranità, le popolazioni di lingua tedesca, statuando un vero programma di espansione territoriale. È dopo l'occupazione della Bohemia e della Moravia che l'atteggiamento di Francia e Gran Bretagna cambia. Alla fine di marzo, le due potenze si impegnano a difendere la Polonia da una oramai probabile aggressione tedesca. Il nuovo obiettivo di Hitler è Danzica, di cui invoca la restituzione alla Germania. Il governo di Varsavia guarda con crescenti speranze verso Parigi e Londra. E poi c'è l'Unione Sovietica. La Germania rischia di dover combattere su due fronti, come già era avvenuto durante la Grande Guerra. Ma Hitler ha le idee chiare. A est guarda con crescente interesse ad un accordo con Stalin, mentre ritiene che sul fronte occidentale l'Italia farà buona guardia alla Francia. Il regime fascista, benché stremato dalle campagne d'Etiopia e di Spagna, sta perseguendo una politica bellicista. Proclama di essere disposto a battersi per Nizza, per la Corsica e perfino per Djibouti. Inoltre, nell'aprile 1939, un corpo di spedizione italiano occupa l'Albania, che viene annessa al Regno d'Italia. Il 22 maggio, il fascismo lega definitivamente le sue sorti a quelle del nazismo. Al palazzo della Cancelleria di Berlino, il ministro degli esteri italiano Galeazzo Ciano firma il patto d'acciaio. L'intesa politica dell'asse Roma-Berlino si consolida ora in una vera alleanza militare tra i due regimi. Nel terzo articolo si legge Qualora una delle parti verrà a trovarsi implicata in complicazioni di carattere militare con un'altra o con altre potenze, l'altra dovrà immediatamente intervenire al suo fianco. Il giorno dopo, la stampa titola 150 milioni di italiani e di tedeschi marciaranno insieme qualunque cosa accada. Le complicazioni di carattere militare sono, a questo punto, cosa certa. Il patto di alleanza e di amicizia concluso oggi fissa e consacra in precisi impegni politici e militari quella profonda comunione di spiriti e di opere che esiste tra la Germania nazista e l'Italia fascista. Il patto d'acciaio stipulato dall'Italia fascista con la Germania nazista fu un patto anomalo nella storia dei rapporti diplomatici, nella storia dei trattati e delle relazioni internazionali. La sua formulazione era in effetti, per molti aspetti, sorprendente. Si parlava di intervento di una delle due potenze contraenti a fianco dell'altra ove l'altra fosse stata coinvolta in eventi bellici con potenze terze. Coinvolta. Questo significava che il legame riguardava, non solo come era nella tradizione dei trattati tra le grandi potenze, la necessità di una difesa da un'aggressione altrua. No, qui si trattava di intervenire in automatico anche in seguito a una guerra di aggressione. Perché l'Italia fascista, Mussolini e il suo ministro dell'Esteri Ciano accettano questa formulazione così impegnativa e diciamo anche abnorme dal punto di vista dei rapporti diplomatici. anche sulla base del fatto che Hitler assicura verbalmente a Mussolini che la guerra sì, ci sarà e a questo Mussolini anche si stava preparando. Ma allora non era ancora pronto. Ma ci sarà fra tre anni. Pochi mesi dopo, la Germania conclude con l'Unione Sovietica un patto di non-aggressione. Stalin diffida adesso dei paesi occidentali e giudica la loro politica incerta ed ambigua. Annessa l'Austria, conquistata la Cecoslovacchia e garantitosi l'alleanza italiana, Hitler traccia i suoi piani di espansione verso l'est. Stalin preferisce cautelarsi stringendo un accordo con i nazisti. Ribbentrop si accinge a firmare il patto russo-tedesco che delimiterà le zone di influenza delle due potenze dal Baltico ai Balcani e la spartizione della Polonia. La Polonia, infatti, è il terzo obiettivo di Hitler. Il patto tra Stalin e Hitler è firmato. La condanna della Polonia è ormai certa. Un'ondata di patriotismo si solleva in tutto il paese. La Polonia, infatti, è il terzo obiettivo di Hitler. A Londra, il significato del patto russo-tedesco appare immediatamente chiaro. Il governo inglese conferma i suoi impegni con la Polonia. Chamberlain dichiara in Parlamento Il patto di non-aggressione russo-tedesco non modificherà in nulla gli obblighi verso la Polonia che la Gran Bretagna ha spesso pubblicamente confermato ed è risoluta a mantenere. A Parigi si vivono ore drammatiche. Il governo è in crisi. Alcuni ministri manifestano gravi perplessità sulla linea da seguire. Dall'Adie dichiara che la Francia manterrà gli impegni sanciti nel trattato di alleanza con la Polonia, ma le perplessità e le incertezze permangono nel governo e nel paese. Roma Gli avvenimenti colgono di sorpresa Mussolini. Nonostante le sue dichiarazioni favoribili alla Germania, egli avverte la gravità della situazione in cui è stato posto da Hitler e mantiene un atteggiamento oscillante. I nostri nemici, dichiara Hitler al suo stato maggiore, speravano che dopo la conquista della Cecoslovacchia la Russia si sarebbe schierata contro di noi, ma essi non mi conoscono. I nostri nemici sono dei vermiciatoli, l'ho visto a Monaco. Hitler è certo che Francia e Inghilterra non si muoveranno. 25 agosto, il Führer fissa l'invasione della Polonia per il giorno successivo alle ore 15. Poche ore dopo l'ordine è ritirato. Due fatti nuovi. L'Inghilterra ha firmato un trattato di alleanza con la Polonia e Mussolini ha avvertito di non essere ancora pronto all'entrata in guerra a fianco della Germania. Hitler teme adesso l'intervento degli occidentali e offre loro garanzie di ogni genere pur di avere mano libera sulla Polonia. 29 agosto. L'Inghilterra conferma i suoi impegni con il governo polacco e propone trattative dirette tra Germania e Polonia. Hitler concede solo 24 ore. Il tentativo fallisce. Tutto il mondo, sono le parole del presidente degli Stati Uniti Roosevelt, prega affinché la Germania consenta, come la Polonia, a trattare pacificamente. Alle prime ore del 30 agosto il governo di Varsavia proclama la mobilitazione generale. Era quello che Hitler voleva. 31 agosto. Hitler comunica ai suoi generali la data e l'ora dell'attacco. 1 settembre, ore 4 e 45. 20 minuti dopo l'ambasciatore polacco Lipsky chiede di essere ricevuto da von Ribbentrop. Viene fatto attendere. Il ministero degli esteri tedesco sa che l'ambasciatore ha poteri limitatissimi e l'incarico di temporeggiare. Ore 17. Mussolini invita Hitler a non rompere ogni ponte con la Polonia. Ore 18 e 30. Von Ribbentrop riceve Lipsky e gli comunica che ogni trattativa è ormai superflua. La nonna è morta. Con questa parola d'ordine, Reinhard Heydrich, comandante dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich, dà il via alla Seconda Guerra Mondiale. Sono le ore 20 del 31 agosto 1939. Hitler, ormai deciso ad attaccare la Polonia, ha incaricato il capo delle SS, Heydrich Himmler, di organizzare un incidente sulla frontiera polacca. Deve fornire all'esercito tedesco un pretesto che giustifichi, di fronte all'opinione pubblica internazionale, la nuova aggressione. Heydrich pianifica l'operazione, preparata nel più assoluto segreto. Il piano prevede la simulazione di un assalto da parte di soldati tedeschi, travestiti con uniformi polacche, alla stazione radio di Gleivitz, una cittadina della Slesia situata a pochi chilometri dal confine con la Polonia. Così, un comando nazista di 12 uomini entra in azione. Due tecnici tedeschi, ignari di tutto, cercano di difendersi dagli assalitori, ma vengono uccisi dai loro stessi connazionali. Occupata la stazione, gli aggressori lanciano, in lingua polacca, un finto messaggio di sfida al Terzo Reich. Poi, la squadra di sabotatori si allontana, fingendo di dirigersi verso il confine. È l'incidente che consente a Hitler, da Berlino, poche ore dopo, di annunciare alla radio. Questa notte, truppe regolari polacche hanno aperto il fuoco sul nostro territorio. Dalle ore 4.45 di oggi, venerdì 1 settembre 1939, le nostre forze armate sono passate al contrattacco. Le armate tedesche invadono la Polonia. La macchina della guerra si è messa in moto. Hitler aveva da tempo studiato nei minimi dettagli l'invasione della Polonia e nel tentativo di giustificare questa aggressione dinanzi all'opinione pubblica tedesca e internazionale, non aveva esitato a ricorrere all'inganno, ordinando che SS, travestiti da polacchi, simulassero un attacco alla stazione radio tedesca di Gleivitz. Ormai la guerra, il grande ideale della politica hitleriana, incumbe sulla testa di milioni di europei.